Buona giornata e ben ritrovati al notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 5 luglio. Nel corso dell'ultima settimana il mercato interno dell'olio extravergine di oliva ha registrato una lieve flessione delle quotazioni da attribuirsi non tanto a una diminuzione della domanda quanto a una variazione nella qualità del prodotto offerto. Le analisi effettuate nei nostri laboratori su campioni pervenuti da diverse regioni italiane evidenziano una modesta qualità che certamente influenza il prezzo finale. Nonostante la flessione le prospettive per il mese in corso indicano una stabilizzazione dei prezzi anche per la ripartenza dell'indotto turistico. In ogni caso la qualità guida le preferenze del mercato. Mercato informato. Analisi economica degli ultimi tre mesi. In data 5 aprile si registrava un prezzo medio di 9,44 euro chilo franco partenza a cui seguiva una leggera diminuzione intorno metà fine aprile. Successivamente si osservava un incremento costante con un picco di 9,55 euro verso il 20 maggio. Questa tendenza si è invertita bruscamente con una discesa a 9,50 euro a fine maggio per poi proseguire con un graduale declino e assestamento a 9,43 euro. La significativa impennata dopo la metà di maggio è da attribuire alla maggiore richiesta di prodotto da parte degli imbottigliatori che stavano esaurendo le scorte. È importante per gli operatori del settore avere sotto controllo le analisi di mercato, monitorare costantemente le variazioni di prezzo per adottare strategie di produzione e di vendita. Il mercato dell'olio extravergine di oliva è caratterizzato da fluttuazioni continue, influenzate da fattori quali domanda globale, produzione, politiche commerciali e tendenze di consumo. Rimanere aggiornati è una strategia in risposta di cambiamenti del mercato. I mercati esteri mostrano segni di affaticamento, soprattutto per quanto riguarda gli oli di qualità inferiore. La Grecia registra una diminuzione delle quotazioni. Anche la Tunisia segue lo stesso andamento. Diversamente, la Spagna riesce a mantenere le sue posizioni grazie al limitato olio residuale disponibile, dimostrando che la scarsità può talvolta giocare a favore della stabilità dei prezzi. Le quotazioni medie si attestano questa settimana intorno ai 7,80 euro chilo. Occhi puntati sulla campagna olivicola in corso, con stime che oscillano tra cautela e ottimismo. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.